Amici di Simone Mazzola, Padel & Tech, bentornati. Oggi voglio condividere con voi la mia esperienza con la Insta360 Go 2, un oggetto rivoluzionario per concezione e realizzazione, qualcosa che prova a contrastare l'egemonia della GoPro alla voce action cam, ma che in realtà proprio non è una action cam. E vi spiegherò perché, visto che non essendo un prodotto di nuovissima realizzazione, è inutile parlare di caratteristiche tecniche. Quindi vi condividerò tutti i miei dubbi e perplessità su questo oggetto dopo averlo acquistato con grande entusiasmo. Non me ne sono pentito a 360 gradi, ve lo annuncio già, però ci sono certe cose importanti che in tanti non vi hanno detto. Io ho acquistato la Insta360 Go 2 per creare dei contenuti diversi, particolari molto spesso dei B-roll da aggiungere ai miei video, che avessero una prospettiva diversa, ma che al tempo stesso non mi obbligasse a dedicarci mani, tempo e idee, mentre magari il focus dei contenuti fosse qualcosa di diverso. Mi spiego molto bene però. Avere una prospettiva personale e quindi poter indossare questa camera permette con un semplice tasto di riprendere tutto ciò che fate in prima persona. Anche mentre magari siete impegnati a riprendere qualche cosa di altro per un video, state riscaldandovi mentre giocate a padello, soprattutto vi state facendo una corsa o andando in bicicletto. Io cercavo qualcosa di questo tipo e l'ho trovata. La dotazione che viene data assieme alla camera è davvero il top, perché c'è il suo case di ricarica e poi ci sono tre supporti a dir poco validi e utilissimi per ogni situazione. Il medaglione metallico che potete mettere al collo e sotto la vostra maglietta, sulla quale la InstaGo si attaccherà senza alcun pericolo di perderla e vi riprende dall'altezza del vostro sterno più o meno con una comodità e fruibilità pazzesca, data anche dalla dimensione a dir poco minimale della camera stessa. C'è poi una clip che potete attaccare alla visiera del vostro cappello o a qualsiasi altro oggetto, dandovi sempre la solita stabilità di una calamita quasi indissolubile dal case, ma anche un'ulteriore prospettiva di video. E infine il supporto che si può attaccare a una qualsiasi parete o superficie liscia per riprese fisse. È dotato quindi di una gomma particolare che lavandola riprende le sue proprietà adesive. Questo permette quindi di dare alla Insta360 Go 2 un ventaglio di opzioni e a voi un ventaglio di contenuti che nient'altro può darvi, lasciandovi le mani libere per fare ciò che il vostro focus richiede. Io ho acquistato questa cam esattamente perché non volevo qualcosa che mi obbligasse a tenere in mano una camera per fare una timelapse o un hyperlapse e che potesse darmi la prospettiva in prima persona senza che io me ne dovessi fondamentalmente preoccupare, se non nella selezione di quando e come creare il contenuto. Le sue dimensioni minime la rendono sostanzialmente utilizzabile ovunque e in qualsiasi momento, essendo il top per un altro aspetto fondamentale che deve caratterizzare queste videocamere, ovvero la portabilità. È delle dimensioni di un case per iPods per fare un paragone e in una piccolissima bustina si possono portare tutti i suoi gadget e tutti i suoi accessori. Vi basterà davvero una tasca per tenere tutto a portata di mano senza zaini, zainetti e borsine che vi riempiono le tasche come degli Sherpa. Se cercate qualcosa che possa fare dei video tendenzialmente di breve durata, da una prospettiva diversa e che sia il meglio della portabilità, è assolutamente il prodotto che fa per voi. Detto questo, ci sono dei ma che bisogna per forza tenere in considerazione quando si fa un acquisto del genere, visto anche il costo non necessariamente a buon mercato di questo oggetto. Perché vi dicevo che non è una action cam all'inizio? Ve lo spiego subito. Semplicemente perché non potete pensare di mettere la vostra Insta360 GO 2 sul casco della vostra bici e fare un'ora di girato continuo mentre fate downhill per esempio. La Insta GO essendo fisiologicamente molto contenuta come dimensioni ha anche un'autonomia di batteria molto bassa e sebbene la casa madre indichi mezz'ora come tempo di utilizzo continuativo al massimo delle prestazioni, questa cam non ci arriva e spesso non arriva neanche ai 25 minuti consecutivi di utilizzo. Questo perché l'oggetto è fisicamente piccolo e quindi non può montare una batteria di lunga durata, è ovvio. Il case in cui lo mettete funge da stazione di ricarica e per esperienza personale vi garantisce due ricariche piene in mezz'ora ciascuna per poter ritornare a utilizzare la vostra camera stand alone, quindi staccata dal case. Questo preclude però molti utilizzi, soprattutto quelli in cui voi registrate a getto continuo per una o due ore e poi ritagliate solo le parti migliori dei vostri contenuti. Se cercate questo la Insta360 GO 2 non è ciò che fa per voi. Inoltre un enorme difetto di questa camera, che non ho visto menzionata in tante review che ho consultato, è la connettività. Essendo così piccola non è dotata di uno schermo e quindi dovete per forza collegarla all'applicazione del cellulare per vedere cosa state riprendendo o cosa vorreste riprendere. La sincronizzazione con l'applicazione è letteralmente infinita. Ci vuole poco meno di un minuto per far sì che i due dispositivi parlino e onestamente per un prodotto da quasi 300 euro utilizzato in mobilità e per fare contenuti speedy non può essere accettabile. Un ultimo difetto è che questo oggetto scalda molto in quando viene messo in un utilizzo continuativo. L'ho notato subito la prima volta in cui ho registrato all'interno delle mura domestiche e me lo ha confermato anche successivamente in alcune determinate situazioni all'esterno. Sebbene debba dire che non sempre capita perché ad esempio ho fatto una passeggiata registrando durante l'inverno quindi circa metà febbraio per farvi capire tenendola appesa al cappellino e in questa situazione vuoi per il clima freddo vuoi perché era più esposta all'aria non si è sorriscaldata. Però diciamo in condizioni normali la temperatura è un problema. Non così incidente visto che comunque oltre i 20-25 minuti consecutivi non potete usarla però è assolutamente una cosa da registrare. In definitiva questo non è un video atto a distruggere la Insta360 Go 2 che è perfetta per ciò che serve fare a me. Sono contento dell'acquisto e del giusto mix di qualità non registra in 4K ma arriva a 2560x1440 in 50 fps stabilizzazione perché il sistema Flow State è davvero super per qualità e morbidezza e soprattutto per poliedricità e possibilità di utilizzo. Mi serviva qualcosa di piccolo, indossabile e utilizzabile senza pensieri. Per questo vale ogni singolo euro che spenderete perché un oggetto così sul mercato non si trova. Detto ciò non condivido la definizione di action cam perché è troppo diversa e limitata se consideriamo di inquadrarla lì rispetto a una GoPro o banalmente anche alle action cam della linea InstaGo. In definitiva se cercate quello che cercavo io quando ho pensato di acquistare questa cam siete nel posto giusto, prendetela e vi darà una flessibilità mai vista ma non in molti vi dicono ciò che non va e soprattutto per cosa non è indicata. Spero di avervi aiutato nella scelta di comprare o meno questa Insta360 Go 2 e di avervi chiarito le idee sulle mie esperienze personali. Ormai non essendo più un prodotto nuovissimo era importante dire ciò che gli altri non hanno detto. Per questo se vi è piaciuto il video lasciatemi un like ma soprattutto vorrei sapere la vostra opinione e la vostra esperienza con questa camera se ne siete già possessori per mettere ancora più elementi sul tavolo dell'analisi proprio qui sul canale YouTube. Come sempre iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a un prossimo video sempre qui su Simone Mazzola Padelentec.